Quando pensiamo a uno youtuber ci viene in mente un gamer, un ragazzino oppure Clio Makeup. Invece Walter Levin è un professore di fisica del MIT. Il suo canale YouTube ha circa 11 milioni di visualizzazioni con il video corrispondente a questo libro. Infatti solo lui con il suo essere un vero scienziato un po' pazzo riesce a far sembrare la fisica davvero divertente. E questo è il succo del libro, rendere la fisica qualcosa di divertente, spassoso e adatto a tutti. Sia agli studenti del liceo che magari si vogliono approcciare a questa disciplina, sia anche agli appassionati, agli adulti e a ciascuno di noi che vuole chiedersi i perché della vita quotidiana.